bella a tutti ragazzi sul mio canale a san potente 3 eccoci qua su prison architette xbox one ragazzi io direi di iniziare con una bella sigla allora lo scorso gameplay eravamo arrivati a fare i pavimenti di di tutto qua io ho continuato un momentino a mettere i cavi questo qui è esausto va bene o siete in 130 cavolo vi anche vi esaustite come cavolo si dice ok ragazzi dobbiamo mettere quindi in carichi dobbiamo fare mette 4 fornelli 4 frigoriferi un lavello bidone spacciatura ok quindi bando alle ciance ciancia le bande fornello io direi di metterne lui dice 4 io dire 1 2 3 poi 1 2 3 e ce ne metto 9 1 2 3 perfetto poi frigoriferi e come vanno messi così così buio ce li metto li mettiamo tutti qua nel muro 2 3 4 5 questo lo mettiamo così io penso che così il dritto è 6 7 e 8 perfetto lavandino lavandino lo mettiamo qua ce ne mettiamo 1 2 3 e un cestino in cucina ce ne mettiamo 1 qua 1 qui un altro qui e in teoria ci siamo poi ragazzi io mi porto avanti perché qua mi dice di mettere due tavole sei cose posso già metterle oggetti io potrei metterci qua le panche le tavole bu vediamo visto che ho tanta gente perché no ma vediamo dai oggetti tavolo panca tavolo per servire questo tavolo per servire secondo me è quello dove devi rimettere sì sì è quello che tipo va in me se quando ce ne mettiamo mettiamo tanti ragazzi ce ne sta ancora uno sì io ce li metto già ai tavoli buone allora facciamo così le file le mettiamo no mettiamo prima una fila di panche le mettiamo per così si dai una così due tre io intanto metto così questa no 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 sbagliato e allora momento e pa oggetti panca qui perfetto se ne mettiamo un'altra una qui una qui è una qui e dopo ripetiamo tutto così ragazzi quindi adesso dobbiamo dare priorità tutto diamo priorità ragazzi a tutto tutto quello che dobbiamo mettere questo 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 i fornelli mi raccomando non dovete perdere tempo diamo priorità tutto questo non so perché non mi fa dare priorità anche questo anche questo anche questo anche questo anche questo anche questo ok vediamo che succede vediamo che succede ragazzi dovrebbero adesso prendere tutti i materiali e finalmente tipo anno devo fare un momento è installa a devo dirgli che anche qua dov'è che si faceva pianificazione stanze assieme una situazione specifica le varie si seleziona allora cucina si questa è una cucina questa sarà la cucina perfetto e vabbè adesso ci dice che ci manca un botto di roba però ragazzi adesso arriva e hanno messo prima le panche va bene dai due tavoli sei tavoli che vuol dire qua non lo so facciamo facciamo seguiamo prima qua della cucina che ci installino tutto stanno arrivando guardate qua camion e camion e camion di roba perfetto le guardie fanno il loro lavoro i cuochi spero che sono lì anzi assumerei ancora un due cuochi cuochi scuochi gestione privazione personale lavoratore avanti dai che c'è lavoro adesso quante ne abbiamo e assumo tutti ok tutti ragazzi 150 dai forza ok arrivano i fornelli i lavelli arriveranno e quelli sono i frighi ok ma perché l'ho messo anche perfetto installa quattro frigo un lavello collo con bidone spazzatura in cucina dai che arriva ragazzi dai che facciamo il livello si finiamo il coso qua ok i cuochi sono già all'opera diciamo penso no che ne so io vai vai perfetto acqua devono sistemare l'impianto elettrico è vero che ci manca corrente qua adesso arriviamo tutti è momento e adesso facciamo tutto è abbiamo siamo a posto installa due tavoli sei tavoli due panche ok ragazzi diamoci in bomba di due tavoli sei tavoli due panche però bidone spazzatura in mese anche lì allora quindi pausa ragazzi poi andiamo su oggetti allora oggetti 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 quindi ci vuole un bidone della spazzatura ha detto che lo vuole anche qua io direi di metterlo nell'angolo sperando che il tavolo dopo non mi rompa le scatole va bene dai lì non si qua non qua non si siederanno non si siederanno dai uno qua uno qua poi tavolo così a la panca manca una panca qua sopra la panca manca la panca qua lasciamo uno spazio perché così camminano così ancora qua poi tavolo così 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 panca adesso quindi la panca va di qua così ragazzi via di scorrendo eccetera eccetera andiamo avanti bo io continuo la stanza così aver capito che è rimasta solo la figlia l'italia ecco lui la figlia del boss rimane la famiglia non essere dietro le sbarre o sotto terra quindi ok si è sempre tenuta fuori oppure qualcuno deve pure aver introdotto quella droga dell'esterno vabbè è di nuovo che succede adesso brutta storia almeno abbiamo rimesso nuovi nostri cocchi possiamo iniziare questo dovrebbe raffreddare se però se però sono tutti iscritti di astinenza urg ce ne occuperemo dopo ora come ora mi ricordo che il fatto che l'incendio potrebbe essere stato accidentale dobbiamo installare un impianto di irrigazione per tenere automaticamente in tabade gli incendi metti due irrigatori nella cucina e due nella mensa e non dimenticare di colicare l'impianto idrico quando l'avrai costruito ok ragazzi facciamolo subito visto che ci siamo vorrei sistema dei bisogni tutti detenuti hanno i bisogni bla 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 cibo bla 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 allora costruzione dobbiamo mettere degli irrigatori perfetto eh mo aspettate un attimo eh c'è l'impianto elettrico qua sotto l'impianto idraulico ok qui uno qui eh ma perchè qua non c'è corrente me che ho capito io bu io ce lo metto qua e quell'altro dov'è quindi se io ottengo il cursore qui ce lo metto uno qui e uno qui sotto poi se andiamo di nuovo sull'impianto idrico ce ne metto uno qui e un altro qui dovrei averli presi adesso bisogna andare in cucina e mettere uno qui e uno sotto uno qui poi impianto idrico uno qui uno qui è l'impianto elettrico mi sta sulle scatole come mai quella lampadina lì non è accesa perché non sei accesa tu lampadina che cavolo vuoi addirittura così tu e ti mettiamo pure qua in mezzo così guardate qua che roba avanti ok qua è tutto collegato tutto funziona i frigoriferi vanno e gli irrigatori gli irrigatori li stanno mettendo ah ok l'ha messo l'ha messo perfetto stanno già iniziando no no che mangiano chi è che mangia loro e le panche qua ma buongiorno allora qua c'è va una panca uh arrivano i chef con la ok stanno mettendo irrigatori installo irrigatori cucina collega del terreno ok manca solo in cucina in cucina siamo apposta ah li sta mettendo spero che ne abbia due cavolo non è niente di roba uno e uno solo con uno viene maledetto ok ragazzi è l'ora del pasto eh dobbiamo cosa pochi ne ho tanti uh inserviente che fanno questi c'è stato un incidente delle docce mannaggia eh abbiamo già capito chi è incarichi che devo fare incarichi sfama i detenuti offre un po' di svago prenditi cuore dell'ambiente ok quindi allora un momento ragazzi gestione prigione assumo il personale inserviente li assumo tutti ok perfetto ragazzi loro devono pulire perché fa abbastanza schifo dov'era che faceva più schifo di tutti eh le doce guardate qua ah l'istantanea boh quindi qui ragazzi finiamo tutto però io vorrei un momentino fare anche gli incarichi offre un po' di svago 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 ragazzi eh che faccio con svago oggetti andiamo a vedere i resoconti invece bisogni vescica intestino sonno cibo sicurezza vabbè ragazzi qua sono tutti a posto sono adesso mettiamo un po' di svago e abbiamo finito gli stiamo dando da mangiare i servietti stanno pulendo quindi io direi allora costruzione oggetti io potrei mettergli ah panca piana panca piana oh che è successo io ci metto queste vabbè quello sbagliato ma questa ce la metto così che è successo questo che cos'è istantanea raccogli ah ok va bene ok panca piana poi oggetti eh oggetti ragazzi ceo ci metterei dov'è che l'ho vista ah eccole qua tv qua mettiamo una fila di televisioni rivolte verso di qua così 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 e poi una fila di radio so che non è non va bene però ragazzi non c'è problema eh già voglio mangiare tv ragazzi guardate qua che velocità capiamo guardate lì quindi poi io direi allora c'è un cortile ecco qua ci mettiamo anche qua delle panche queste le mettiamo così così forza forza ragazzi che succede? ah adesso vanno in cortile quindi beh se ci mettessi delle radio ma è delle panche ragazzi però ci metterei io ce le metto tutto lungo la prigione così se qualcuno si vuole sedere che dite ragazzi? facciamo così così qua qua intanto stanno arrivando le tv ah le panche sono già messe uh telefoni però momento momento con calma ragazzi adesso vi sistemo tutto io eh telefoni telefoni che telefoni ve li metto io ok anche un po' di telefoni qua in dovete chiamare qualsiasi cosa non preoccupatevi che è successo? tempo libero ah perché prima potevano andare in cortile adesso invece non è il tempo libero vabbè io ci metto pieno qua di robe ok ragazzi aspettiamo che montino tutto vediamo un po' se riusciamo a fare questo offre un po' di svago ai detenuti caspita con tutte le cose che gli ho messo ah le panche le usano però eh ragazzi eh vedete aspettiamo che montino tutto dice è dimostrato di avere a cuore bisogno dei detenuti ben fatto non me l'aspettavo se hai calciato sono genere la gestione quotidiana per il giorno è molto più facile faresti bene a non dimenticarlo per procedere clicca l'istantanea ok però vediamo un po' come funziona qua quindi qua guardano la tv lì guardano la cosa quello là lava i piatti i vassoi in teoria solo su un lavello mi raccomando loro stanno rifornendo tutto bravissimi cuochi e l'infermeria com'è a proposito ah eccolo qua qua c'è il medico qui è ferito diciamo che va tutto bene vediamo i bisogni cosa vogliono igiene vabbè ci sono gli servienti 455 irritati eh vabbè ci sono gli servienti che stanno devono lavorare loro sonno ok vediamo quindi adesso quando andranno in cortile sapete che faccio io ci metto pausa ci metto ancora un sacco di panche ragazzi volevo vedere la giornata tipo di un carcerato quindi di notte dormono sonno ok fino alle fino alle adesso doccia ok tutti in doccia avanti perfetto doccia 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 perfetto ok tutti la doccia 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 questa la finiamo dopo un attimino ok adesso arrivano i servienti puliscono bravissimi tempo libero ok vediamo che fanno nel tempo libero chi va in cella chi va in cortile no vanno in cella quello va a sedersi tanti se ne tornano in cella tanti qua che stanno preparando penso il pranzo penso eh che fanno ah buttano via le immondizie ok tempo libero lavoro mo che fanno che è sto lavoro 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 non fanno niente lavoro in cella che cavolo di lavoro vuoi che facciano lavoro non fanno niente perfetto ok lavoro non fanno niente perfetto questo grigio qua chi è? ah eh non leggete perfetto quindi lavoro 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 però non stanno facendo niente sono tutti in cella vabbè vediamo le 11 cosa fanno tempo libero ok tempo libero tempo libero si dai che arriva a mezzogiorno ah a mezzogiorno si mangia eh voi preparate qua iniziate a cucinare a bombazza eccolo lì pasto è furbo già arrivato questo dai guardi apri la porta lì perfetto se mangia se mangia se la fanno mangiare tutti si si se basta quindi ci ho messo uno uno due tre quattro cinque di quelli lì e ce la fanno anche se non c'è niente loro prendono lo stesso vabbè ok ok pasto arrivano in serviente tanto puliscono tutto vediamo le due cosa fanno tempo libero allora le due che fate che fate le due in cella in prigione via via in cella e alle tre vanno in cortile quindi hanno tutti da telefonare hanno tutti per fare gli esercizi hanno le panche telefoni perfetto questo cortile è qua questo è qua così è qua che è chi è questo cosa fai tu fermati un po' che hai fatto ah sei un coso condanna 9 apri molte recitazioni furto 9 anni ah ma hanno diversi colori detenuti non sono tutti arancioni ok tempo libero vabbè poi vediamo un po' che fanno adesso lavoro che non fanno niente ancora lavoro alle 18 alle 19 pasto penso vediamo no tempo libero avanti ok alle 20 c'è il pasto se magna tanto abbiamo visto che c'è basta e vediamo che ora vanno a dormire ah è vero poi c'è il tempo libero alle 22 quindi andranno a dormire alle 11 penso è perfetto alle 23 c'è il sonno ragazzi quindi c'è questo secondo episodio del Don Palermo vi è piaciuto vi avete a mettere mi piace ragazzi iscrivete al canale ragazzi se non avete ancora fatto non come se ci vediamo in un prossimo video ciao a todos ciao a ciao a ciao a